In questi importanti giorni per Apple durante il suo evento annuale WWDC 2018, conclusisi proprio oggi, 8 giugno, ricordo fra l'altro potete visualizzarlo nel precedente video, ha presentato iOS 12 con la realtà aumentata, il nuovo Siri, macOS, muawei, il tvOS 12 e tanto altro. Ebbene si, iOS 12 ovvero il nuovo aggiornamento per iPhone, iPad e tvOS è stato annunciato, con diverse novità non tanto a livello estetico e di funzionalità ma soprattutto di ottimizzazione del precedente aggiornamento, la versione 11 che attualmente noi utilizziamo. Vedendo in un successivo video tutte le novità presentate fino ad ora per questo nuovo aggiornamento, oggi andiamo a vedere come scaricare in maniera gratuita la prima beta di iOS 12, iniziamo con l'elencare tutti i dispositivi supportati per ricevere l'aggiornamento. Per gli iPhone abbiamo naturalmente l'X, l'8, l'8+, il 7, 7+, il 6, 6S+, 6, 6+, SI e l'ormai datato 5IS. Per gli iPad invece la sesta generazione, il 12,9 pollici di prima, la seconda generazione il 10,5 pollici, il 9,7 pollici, la R2 e 1, la quinta generazione il mini 2, 3 e 4. Anche i pod touch di sesta generazione sono inclusi. Premetto che l'operazione è pensata esclusivamente per gli sviluppatori, quindi come ben sapete le versioni beta presentano bug e non sono idonee per un utilizzo quotidiano, a meno che non siate ansiosi di aspettare ulteriormente, il suggerimento è sempre quello di attendere la beta pubblica. Sottoscritto, non si assume nessuna responsabilità di eventuali malfunzionamenti con questa versione. Un altro consiglio prima di aggiornare è di effettuare un backup da iTunes oppure direttamente dall'impostazione del dispositivo. Un tutorial che lascerò in descrizione è spiegato come effettuare il backup, inoltre potete approfondire meglio l'argomento della versione beta per i dispositivi Apple. Detto questo, tutto quello che dovrete fare è seguire questi semplici passaggi. L'iter è completo, allegherò alcuni screenshot delle principali operazioni da svolgere. Aprite con Safari, anche in modalità privata, il link presente in descrizione dove sarà possibile scaricare altri realist del sistema operativo come la versione precedente, il watchOS, il tutto in beta. Se necessario registratevi o accedete al vostro account Apple Beta Software Program. Vi verrà richiesta l'identificazione attraverso un codice. Cliccate sul pulsante Accetta, nell'angolo destro in basso della pagina Accordo. Toccate la scheda iOS, toccate il link che registra il tuo dispositivo iOS. Cliccare il pulsante Download Profilo, l'area Profilo delle postazioni verrà aperta. Nella pagina Profilo dell'installazione, toccate Installa nell'angolo in alto a destra. Toccate Installa nella pagina Consenso. Toccare il pulsante Installa nella parte inferiore della pagina. Toccare Riavvia così il dispositivo si riaccenderà per configurare l'aggiornamento. Una volta riavviato il dispositivo, collocate minimamente in Impostazioni, Generale, Aggiornamento Software. In automatico si dovrebbe visualizzare i controlli aggiornamenti. Toccare il pulsante Scaricare ed Installare. Toccare Consenso nell'angolo in basso a destra della pagina Termine e Condizioni, così inizierà il processo di download. Una volta completato il download, toccate su Installa. Questa lista di indicazioni sembra lunga, ma la maggior parte delle fasi consiste nel confermare l'aggiornamento. Occorreranno diversi minuti ed ore in base alla vostra velocità di connessione. Per il mio tanto amato e tanto odiato iPhone 5 Ace il peso è stato all'incirca di 2,26 GB, a differenza dell'ultimo melafonino dal peso di 2,6 GB. Personalmente, utilizzando questo nuovo iOS, ho notato un netto miglioramento delle prestazioni. Non più crash delle app oppure un eccessivo riscaldamento del dispositivo sono state riscontrate finora. L'avvio di app e giochi sembra essere migliorato, ma questo e tanto altro lo vedrete nel prossimo video dedicato alle novità. Grazie a tutti.